E' un sogno di università, intuibano l'università. E' un sogno di università, temoci l'avete una nuova città. Salute a tutti, oggi è una domanda di Nadale Rociccioli, che sono adattati a Dijon della Fontana. Allora, questa prima domanda, è una domanda molto conosciuta, «Le fam e le secret». E lo ha scritto, pistittu a Fatulo. A moia e il pistittu, rientrava da l'orto, e randata da Anakwa, e un aviago così torto, se l'aspettava o marido, a Djebaldon Crescia. Parche fasto dravaio a lo, o libia djia. Rientrava dunque, e appena bia d'oescale, bede o marido, fadigato, ghi pusava nontà o montale. Obiti, si rossonciabado. Che c'è di no? C'è? Che sta notta di uvatunò? Oh, imella, si chimido hai zunniado. Portanto, granò, un'hai mandiado. Ne granò, ne brinada. Ma ecco a nudizia. Ma un dinunda, oghi seria ma arisa. A moia, che a zauia griuda, sorta fa esovacciande. Appena esciuda, scontra a moia di Djoancarlo, che ella be urigabidlo, rimpiazza a Radio Monte Carlo. E ha un dono, che a nadura la dado. C'è arte olti be risponde, avante che bavisse bar ladu. Ogù ma, disse a moia i bistitu. Me marido ha fatto no, l'ha giuistu. E se bo mi dide d'utta riultada, e che stu isgradiado bar ladivan un'avritada. Ma be carità, boi gissi d'una o nasiria. Un di denunda, gipistitu varriu na gummedia. Ma be quale mi biade sta mane? Se ame lingue di genunda, che li ma grunci nua e mani. Ne parte. Un'ora dopo, erano tre ore gipistita uia vattu. Come non i logu si raccontava uvattu, a nodizia di ubaese u dornuvagia. E tre ore dopo, carolina uigia. Da ve fatto l'oubistite una giocca. Ma è nulla. A ua dige ghi crocca. U l'indomane, u baese imbispitu, imparava ghi d'all'ou un piu l'elle rasurtidu. Dopo a sta sigonda giornata, un n'era piu un'ou. Ne dege, ma era un'aggiucciada. Moralità. Se u brimu ministru boleva qualcosa di nou, un'acca incroccassi e fanno un'ou. Pe fa la sabè all'altenazione. Che l'ou metto naona all'informazione. E se di sti miracoli ci crede no gabage. Quale ghi sa? Ci buderiano vutte a badge. Allora, ecco be' sta brima, sta brima vola wa. A dige d'yama u gume diante Pierrick Tonelli, ki badagunta u l'ou bel agnello. Saluda a tutti. Allora, badio d'all'e die una vola ghi si diama u l'ou bu el agnello. Le lù el agnello. Un piccolo agnello eranda ad abeio un bucello in l'ou viume gelo di u brunello. A fa ca un lùbaccio sigudu falladu da gue legume. O gabro! Si tu ca il ampadu mercurochrome in l'ou viume, U jo lùbu sera richo e un so cabage dissuvatu. Epo un emica mercurochrome e permanganatu. Meio, ti ne ride in me, ne piu ne meno, un e tosco e bilenu. So chi didia annu, mai u idubaradu. Anu eccellenza, un era un cunadu. Allora sera babidu. Conoscu dutti i sovati edeti. Babu gorciugelle, faggia u arfixin de martineti. E ma ama begorras, cu uso mantelo in astracan, un libiage nuvorse mic a i gankan. E un parlemu di odo a steli gaccio di badrone, chi malinta digan in pareccio occasione. E ora che la viniski gu tutti siruti. Tu pagherai bertutti. Usa mandiadu, forsez estranguladu. Moralida. Signore iu iji, affa u arfixin de martineti, manda deji i lubi gifur anu aniele kabretti. Allora oa toka du anpedro du di djeli, ku u lubu e ugane. Le loup e le chien In foresta iu izaone, un loupu buzigosu mudiaba di vamme, sfiancade musinoso, erradantu spinado guello loupone, chi paria sortido d'un campo di concentrazione. scontro un canne cu un balu balu lischu, e lo a cantu pari un stoga fisso. La uia dadu du iedintadebe mette la male, ma gum attacassi a simi l'animale. Fege gum un candidado, chi ba u rincontro d'un elettore, giunta posta bu dal ligontro. Un c'è male, o jocane, boizicchi ci watti dedutti, a ue de djar te goshe ghi parrenu brisuti. Bisogna trawaya pe mandia e ui stecche, to se a spasso mantanto, mandia stecchi. U lubu binsau, setta ui sa rostidi d'un toalio lu, adi u liadaeo, adi u ri adi u drawayo. Ma, un labudia spiegastu gane dantastudu a quale vor se stu bruggettun saria biecciudu. Trawayeria guntè? Maghi si vage. Poche goze. Facchiù badrone abbi a zobage. Un mudio nidanto, un mursigall'occasione. Abadià contra u meri, in tempo d'elezione, alzà gamba dute e mani, illa borte di basquale, quici udo contra? Pao consiglio generale. Ma, quici? Famiu e da pena. Un e lunda, a marca di agadena, agadena. Que su strumento bogo mi garba? Allora, un cibo cora da redo all'anilin de l'arba. Cor un cibo? Ha bisogno un ciné. Ti ho l'accorre guntò a mondiusco laggié. So tiatriare. Se non si bucorebbe stimazioni, un m'interessa di diventare i badroni. Un cadinado. So gaso sadanassu. Abbede, geochocone. Io mi ne vago a spasso. Signor lupus capò con pocusangu in le vene cum è spaventado dall'ombra di egadene. Muralità. Ubueda canta a libertà. Ma pisa de questa verità. Ashterpa di i lubbi e spinto ramai. Ma quella di i gani più fiori dalle mai. Allora, l'agula e l'agula è un gorbo. qui c'è a stumagiccia. un muntone altro che è un muntone altro, che è un muntone altro, che è un muntone altro. altrettanto. Sparì alale, si va giù un volplanet, avanti di l'ampassadosso contava i muntone sciliando il più grosso. Era quello che è un muntone altro, e ha un muntone altro. E la mia dalle di iubi di u'aiolo, si ne bascia solo solo. di bensi, scappa o non in tutti i sensi, o diosso di un nostro baisano era diventato un rodeo americano. O gorbo vorzò a bantumina, ma quel obeso era altro che o gajo di zia Garolina. Quando o pastor è corso, è languantato, un apossudo lintà che era engarmilhato, è stato un cambiato, o desgraziato. Moralità. Se vado oggi non si può pagare una mercedessa, che l'azia ha detto che tu ti sei contentato di una bicicletta, ecco, tocca a Dioan Pedro di Gelli. Allora, una volta che mi piace assai, che ti ha assai con i suda, che ne abbiamo imparato quando ne eramo giughi. O Lione è il suo associo. Bolpina. A Zinus, Lione e a Gabra avevano formato una sugedà a responsabilità limitata. Tutto sarebbe in comune, uno con tutti, tutto con uno. facendo e mangiuscola spartizione eguale, ognuno dava a zoia, frutti, arbagi, legume o carne animale. Bolpina, che vi ha posto una drappola geniale, annunciò un giorno alla sugiadi, a presa d'un cignale. Lione, sbaglio i muruggini, perché se uno di noi adocca, o faccia tagliarini. Moralità. O bicadore di O Lione in sta storia di spartizione e che ha fatto quattro parteguale. O brutto, sabendo all'avanzo che l'ousa oia da mondia tutto. Allora, adia tiama di no Pierrick Tonnelli che dava l'ultima vola, che si diam, Pierrick? Cavalus Malatus. Cavalus Malatus. Mi bar rigidia o gawalo malado. Ale, Pierrick, toccate. Cavalus Malatus. Badiouidiab presentadu a signor l'oubu e tutti i sogwae. Uridruemu semprevamidu e piu brutto gemmae. Soga, ceru navire in liguntorni ed elun lasabia o vato e chi majuskul un eudia. Ditand un colpudotiu besi bradi tiwedu gawalo arabo dimoradi. Abiginandusi pensava, mbè, qui ce olea biola pe circa distrangulalu un ceco una manera sola. Ferradiu varzum medigu dal trivunum dal trivunum brulladi abroa o varzum medigu di agamera di dibudadi. Se lisosta di brulladi guelli un kawalo acerbelu gantelli. Signor kawalo, salude, obiutostu maladia, kawalus arba fresca malatus ipu gratu aigia. eo lubu medigu bederinario e dentisto tadionduinado malado dacetadio isto so siguro giedonote so fatte da fane. Fia di a me dimi do malani. Giusto appunto signor lubu un po sumertia diverso so stado verrado un tiawello entrado di draverso sobra un momentu menezo mica bistu magaccia milu beccarida posto gissian cu dentisto u gawalo besa a diapa si mette in posizione quel udon tu si bende beccaccia u diavilone una diste diap di gawalo idrotu dia dimensione dun cacau elu gotu o ea decima vergine og carciu og fogo d'artividu i denti disangue tintum ustaciu eo kawalus maladus serrime su subitus arba fresca pachus muralida se bos contra de un kawalus maladus okuba de idio strafarus eo ladinus l'acha de l'ubarla auguratus ecco 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 e go